Una autentica disdetta perché la stagione sembrava buona, con un'ottima fioritura e la pezzatura dei frutti interessante per questo periodo dell'anno. E invece, invece è bastata una mezz'ora di puro inferno. Tra piante di mele spezzate e mancato raccolto, soltanto nella zona di Tovo, che con l'overo è stata tra le più colpite dalle fortissime raffiche di vento di domenica pomeriggio, i danni estimati si aggirano intorno ai 100.000 euro. Un vento che, va detto, ha fatto più danni della grandine un po' in tutta la provincia, ma in particolare nei meleti del tiranese, anche perché proprio le reti antigrandine, ovviamente utilissime, in questo caso hanno peggiorato la situazione. Gonfiate dal vento hanno fatto l'effetto vela, sradicando e distruggendo le piante sottostanti. Episodio isolato? Con ogni probabilità no, anzi, attrezziamoci contro un rischio climatico in aumento e in qualche modo rassegniamoci pure, perché indietro non si torna. Assolutamente no, è troppo tardi. Purtroppo possiamo solo fermare o rallentare questo genere di deterioramento climatico, ma avremmo dovuto fare la cura come prevenzione 30 anni fa. Non abbiamo voluto farla e quindi adesso la malattia è già in corso. Ambiente, clima e montagna sono stati al centro del convegno della seconda giornata di risorse anziani, la tre giorni dello SPI, il sindacato pensionati CGL Lombardia, che quest'anno è Sondrio a ospitare. Dopo l'antipasto indigesto di temporale quasi estivo di domenica, la domanda è soprattutto una, ma perché ogni volta che piove in montagna succedono disastri? Le piogge intense ci sono sempre state nella storia del nostro clima. Se andiamo a vedere i registri parrocchiali dei nostri comuni, ne troviamo indietro di secoli di eventi pluviometrici che hanno creato dei danni. Il problema è semmai legato a due fattori per così dire nuovi. Da un lato c'è l'artificializzazione del territorio, cioè negli ultimi cento anni abbiamo costruito così tanto che abbiamo reso le nostre aree sempre più vulnerabili. Magari l'alluvione di cento anni fa faceva meno danni semplicemente perché c'erano meno cose da distruggere. A parità di intensità, oggi ovviamente un alluvione trova molti più elementi da danneggiare. Ha più strade, ha più case, ha più linee elettriche, linee telefoniche, benzinai, capannoni, parcheggi, macchine. C'è una quantità di capitale presente sul territorio che ovunque tocchi fai dei danni. Bisognerebbe anche capire che è venuto il momento di fermarsi. La superficie non è infinita, abbiamo cementificato abbastanza. Cementificare tra l'altro peggiora ulteriormente anche i danni pluviometrici. L'altro fatto nuovo è quel cambiamento climatico ormai del tutto evidente che con l'aumento delle temperature rende anche le piogge molto molto più violente. Abbiamo una maggiore frequenza di temporali, di nubi fragili che possono portare a questi fenomeni estremi. Tutte queste cose le dobbiamo mettere quindi nella programmazione del futuro. Il futuro non sarà ormai una ripetizione del passato. Entriamo in un territorio nuovo e bisogna essere consapevoli che bisogna attrezzarsi contro un rischio climatico in aumento.